Quanto è importante per voi, per ConfCommerce e soprattutto per lei che è il direttore di Reggio Emilia, quindi giocato un po' in casa, partecipare a questa fiera? È un'occasione alla quale non potevamo mancare, non soltanto perché si tratta di un debutto, ma indubbiamente perché si tratta di una carnet mess importante che ha un respiro internazionale e che ci può consentire di sviluppare delle sinergie, dei contatti anche con aziende importanti e sa quanto ne abbiano bisogno di questo il commercio e le città in particolare anche per cercare di riempire, di colmare quei tanti buchi vuoti che ormai si sono creati nel nostro centro storico ma mi risulta anche in molte realtà della nostra penisola.